musica 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 non è vero mamma saluta il minuto ah veramente Umberto no Umberto ciao a tutti siiii lol guarda il mio ninja oh no è strozzo l'hai buttato a terra ma che cazzo fa ma guarda che macchina ma che senso ha un ninja che va in giro con una pistola tipo tutto vabbè è un ninja lasciamo stare ma un io c'è un pochissimo ah no no ah adesso arrivano adesso arrivano guarda li guarda li guarda li guarda due cristiani oh mio tuo quanti 2 non ci sai 3 3 un buon dio ho fatto in casin di pecore tra ieri no no scusato un cosiddetto uovi i uovi uovi uova 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 ti odio sei un pezzo di merda risuscitami uova ho perso la spada di fulmur ti odio alstardo l'ho fatta apposta l'ho fatta apposta l'ho fatta apposta non ci credo manco un po' eeeh sono da solo wow e legno e ho perso ho perso pure il ferro no spesso e rientri guarda che ti ridà la roti fa entrare se ti se rientri velocemente oh eh lo so ma è pieno il server pieno è appena uscito uno ok c'è tutto vabbè stavamo dicendo no sono lo spettatore e c'è tutto eh c'è gli oggetti aspetta vedi vedi se ti arrivo si lol ahahah è arrivato dall'invito però che sei invisibile grazie casper grazie casper ahahah vabbè c'è anche una modalità spettatore però che palle io volevo giocare ma che cazzo è sta cosa ahahah abbiamo casper in squadra ragazzi no ma ma sembra un so un trucco oh vado io vado io vado io vado io allora o ci vogliono far diventare milionari oppure oppure un precipino per il culo ho passato berlusconi da questa parte perché ho lasciato un po' di soldi e si è preso clara e qua dove è finita ahahah oppure c'è qualcosa sotto eh dobbiamo dare priorità al carro osho 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 no ahahah il cavolo quindi il cavolo il cavolo il cavolo sono tipo quelli lì come si chiamano il cavolo il cavolo il cavolo un po' un po' tipo quelli lì oh ragazzi mettete radio appena si tratta caldo aspetta aspetta no 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 porta puttana se morì rido aiaia non puoi morire non puoi morire ma come morte stai per morire sei un coglione guarda Marco ce l'hai l'accendino? no lo hai preso? ciao Marco hai preso lo spettatore è di nuovo hai preso lo spettatore è inciso lo spettatore ma tu non li vedi ovviamente gli spettatori non è di caso ma stai beccando tutti gli spettatori che cazzo ci spariamo con le prezze da un centimetro di distanza eh ma neanche vi colpite perché state uccidendo tutti gli spettatori e ci sono uscite due a me è stata segnata la quest a me è stata segnata la quest devo andare a letto io devo andare a fischare ahahahah mi devo andare a me c'è scritto peace ahahahah a me sleep oh questo fanno io lo dai no 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 ah umberto ah umberto a proposito di alberi ah beh guarda io gioco ho pensato di fare un progetto futuro mi chai potaglia quegli alberi là ok oh ce li ho oh vieni vieni qua un attimo ahia oh vedi quell'albero questo fai vedere quale sargento fai vedere quale fai vedere quale questo del nostro lavoro corretti e piedi questa scia battimi quest'albero il mondo scusami no no io stasso sapevice ma io ho qui la macchina domica si avvicina a noi se questo albero è quell'altro lì ma porca andate a farlo cassa ma porca andate a farlo cassa ma porca andate a farlo cassa non non certo non ve lo devi sistemare tu eh i cazzi tuoi sì io per chi se ne fosti oh mi senti? no senti ok bene io sono la regina di merda tu tu sei di solito le chiudo guarda sostanzialmente aspera non c'è tempo fammi spiegare delle cose sono proprio dietro di me stai zitta stai zitta troia eh fosta fosta è me attento bisogna entrare forza identifichiamo i bersagli ci serve vivo shh non ci devo sentire appassati ok non facciamo troppo bacano dobbiamo essere silenzio è bagnato per terra eh che cazzo e sei vestiti nuovi mi hai scordato l'impermeabile ma non c'è te eh che cazzo detto che pioveva qua eh ma che cazzo potevi potevi ricordarmi e fu cosa? potevi ricordarmelo io ti scopertone ok adesso piano si entra va bene ok attento shh shh ok 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 siamo dentro adesso calmi silenzio benvenuti a Battlefield 3 benvenuti a Battlefield 3 shh ci sono talibani che parlano apri più piano sento che ci sono le telecamere oh che cazzo fai tiri le coltellate fai giù 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 ci sono le telecamere oh cazzo mi sa che mi ha visto ah no ok io mi alzo tu prendi quello di sinistra va bene? eh lo dormo andato dimmi te qua il via 3 vado io 2 vai fai tu 3 2 1 via ma dai che cazzo ma fai schifo sei una spia di merda andate a cagare tutti e noi che vodevamo farlo stealth ma morite tutti oh affanculo lo stealth vedevamo 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 quindi scrivete comunque nei commenti se volete se vi piace come un'idea se volete volate se volete volate no no sam ma che cazzo sam stai stai altro che quella di merda troll che cazzo la via mi vuole molto più figa nooo troll di merda no tanti 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 non ero più accorto non so che lo stai per fare ma stare è divertente quando ce la sarebbe fatta così che non è troppo forte perfetto che fare e adesso cosa non so sta succedendo qualcosa ma non ci piacerà mi sento qualcosa che mangia tipo ma ciao no torna dietro ciao ciao apri vai chiudi bene ciao questo masso a sinistra ecco mi sembra troppo vista che c'era qualcuno stima è ancora dov'è adesso ah mi troppo detto non cazzo puttati puttati vorrei morire mi ha fatto prendere un infarto che cazzo hai tentato di incularmi con un elicottero vero non ce l'ho fatta eri eri troppe elicotterose per caratteristica tu sei pazzo cazzo non non no 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 c'è il rapporto in un problema ma io perché mettere già umberto umberto faco e ti buccio al server dopo 10 secondi se non l'avete già fatto per perciò la serie non altro da dire diciamo 3d anzi un'altra cosa da dire e ce l'ho no 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 sono cogliane sono cogliane sei cazzo cogliane si 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 stupido lo so lo so lo so lo stupido madonna conti efficiente sei una testa di cazzo ora muoio ah ok hai altri giochi però gli altri giochi sono intelligente dai solo in questo sono morto ma che cazzo metti da lava se i testa di cazzo veramente non mi hai messo da sola ciao 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 ciao